ma te l'ho detto giro vedo gente mi muovo conosco faccio delle cose ve la ricordate la misteriosa ragazza che dialogava con michele apicella e l'alter ego di nanni moretti e parliamo del film ecce bombo era il 1978 ecco in parte anche il giornalista gira vede gente si muove conosce fa delle cose ma cosa fa il giornalista ciao sono giovanni villino e questo è scala grado un podcast di approfondimento sui fatti e sulle visioni del nostro tempo quando parliamo di giornalisti parliamo in realtà di qualcosa che comprende una serie di figure di competenze specializzazioni voglio fare il giornalista sì ma cosa vuoi fare perché dipende anche dal luogo in cui poi sei impiegato dalla carta stampata al web passando per la radio la tv e ancora le agenzie di stampa gli uffici stampa ecco andiamo intanto da coloro che sono inquadrati da un contratto perché poi ai contratti dedicheremo un altro episodio e che lavorano all'interno di testate giornalistiche abbiamo i redattori con il redattore editoriale il redattore radiofonico quello televisivo quello web si occupano in pratica dell'impaginazione delle notizie quindi sistemano la pagina di giornale o nel caso della tv della radio le scalette che poi vanno in onda che una serie di notizie una dietro l'altra ordinate secondo priorità e poi c'è ovviamente anche il web e anche qui c'è il redattore che deve avere delle competenze anche sul fronte della indicizzazione dei contenuti a tutto questo bisogna dire che i redattori devono avere anche conoscenze e competenze sul sistema editoriale il software attraverso cui poi lavorano poi ci sono i cronisti e il cronista come dice la parola stessa si occupa di cronaca e la cronaca può essere cronaca politica parlamentare c'è la bianca la nera la giudiziaria la cronaca sportiva sono spesso coloro che si incontrano per strada all'interno di eventi e raccolgono appunto le notizie poi dobbiamo dire che c'è un'altra categoria l'inviato inviato speciale si tratta di un giornalista nella stragrande maggioranza dei casi un giornalista esperto che viene incaricato direttamente dal direttore responsabile per seguire un avvenimento un evento pensiamo l'inviato in zone di guerra come anche eventi artistici sportivi diversa è attenzione la figura del corrispondente il corrispondente è colui che invece vive stabilmente nella città dove è inviato mentre invece l'inviato cosa fa segue un evento un avvenimento unico e poi si sposta in base alle esigenze della redazione una figura che si continua ad affermare nel tempo è quella del video reporter che racchiude anche quella che era il photo reporter ormai con gli strumenti tecnologici a disposizione le figure si vanno sintetizzando sempre di più e realizza servizi televisivi o radiofonici o web autonomamente con i propri strumenti senza in pratica l'ausilio di una troupe tutte queste figure vengono coordinate da un altro giornalista che è il capo servizio che a sua volta risponde al capo redattore e quindi al direttore responsabile parliamo in questo caso per le figure che vi ho appena detto di lavoratori per lo più dipendenti presso una testata giornalistica poi accanto a questi ci sono i freelance che sono per lo più cronisti che offrono la professionalità a diverse testate cambia il tipo di inquadramento contrattuale ma come vi ho detto poco prima di questo parleremo in seguito di contratti e compensi altro ambito è quello degli uffici stampa la funzione è quella di informare ed è una funzione quindi prettamente giornalistica perché il giornalista all'interno dell'ufficio stampa diffonde notizie per conto di aziende organismi enti privati enti pubblici e anche qui all'interno c'è il capo ufficio stampa e l'addetto stampa e compiti a essenzialmente quello di tenere i rapporti con gli operatori dell'informazione con i giornali quindi opera nell'ambito di queste istituzioni e praticamente si occupa della stesura della produzione dei comunicati stampa delle rassegne stampa e quindi anche l'organizzazione di conferenze stampa questi sono i principali compiti che ha un addetto stampa un capo ufficio stampa insomma è un mondo complesso affascinante fare il giornalista si dice che sia sempre meglio che lavorare e proseguiremo così il nostro viaggio all'interno di questo mondo davvero interessante ciao sono giovanni villino e questo è scala grado un podcast di approfondimento sui fatti e sulle visioni del nostro tempo